Peggy 18 Ciao a tutti cari amici di Deadsy Standalone, benvenuti ad una piccola avventura su BambiLand io sono Kevin01 del Fairclan e grazie appunto al Fairclan ed Element Gaming che ci consentono di pubblicare i nostri video sulle social e vi ricordo di visitare il nostro forum per tenervi aggiornati sulle nostre attività sui nostri video, le nostre live e quant'altro buon divertimento, vediamo un pochettino come va questa bella giornatina e ci divertiremo, passeremo un po' di tempo insieme qui su BambiLand come tutti sapete siamo sempre nell'attesa della famigerata 063 o beta e proviamo un po' a vedere cosa ci riserva la boemia non vi resta di dire buon divertimento io adesso vi darò zitto tanto non serve a niente che vi parli niente buon divertimento picciotti ciao 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 non ho capito da dove mi hanno sparato sembrava invisibile cazzo vediamo da sotto è impossibile da dietro neanche era talmente vicino sembrava che avesse cittato dal muro lì non lo so non lo so i soliti minchioni che ci stanno su bambiland non so che cazzo si divertono a fare anche rare città fare dei bug di merda niente risponiamo vediamo un po dove siamo qui dai morto ci sono e siamo solo una o una anche se avrei fatto uno a mezzo si ricorda ragazzi è visitato sempre la nostra pagina facebook il nostro canale youtube il nostro forum sparkland.it tenetevi aggiornati adesso siamo in una nuova fase di respawn vediamo seguite e raccomando i miei dici zio ciccio e ince e loro avventure su tarco sui schiaffron tarco le avventure di sole insieme a me il quinto su lazy stand alone e poi vedremo di fare qualcosa anche su battle grande sulle mode di arma siamo anche noi in work in progress a presto 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 e qua sicuramente adesso che andranno a fare pure sicuro stanno due o tre tende qua sembra è il risultato che piacciono cecchini stai assadevando Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo se troviamo qualcosa Ma qua sicuramente appena entro in una tenda mi rivelano di così Grazie a tutti 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 Dubito dubito di trovare qualcosa Grazie a tutti 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 Vediamo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Trampo e a tutti Grazie 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 a tutti